Che rischia sul tentativo di Corelli che punta l'area di rigore, Corelli fa tutto da solo Corelli e trova la rete del pareggio sull'errore del Sassuolo in uscita Alice Corelli, il terzo tentativo è quello buono, 1-1 Qui ha perso palla il Sassuolo, Tudisco ha cercato anche di trattenere Corelli, stava arrivando Novellino, ha esploso un grandestro dal limite